Kerimus Production presenta il primo colossal sardo sovietico, una grande storia d'amore nell'incontro fra due mondi lontani, la forza dirompente di On, sentimento vietato. Al di là di ogni barriera, al di là di ogni apparenza. Un cast di eccezione, Justin Bieber, Avril Lavigne, e per la prima volta sullo schermo, The Bownest. Un concerto finito in tragedia. Un grande match fra due grandi squadre. La violenza negli spogliatoni. In un film che vi inchioderà le poltrone, la verità su una storia del giornalismo da santo. Live in Vampiria. La bocca assassina è tornata. Né cinema, solo per chi non ha paura e per il buio. Sofia, sai che è successo? Incredibile! Stavo passando dal bosco e ho visto il mio cane. Molto! Una storia millenaria. Un mostro spietato. Due ragazzi. La loro fede. Da regista del pluripremiato Live in Vampiria. Un nuovo psycho thriller. La leggenda dell'amuleto. Dopo questo film, non sarete più gli stessi. Prossimamente, nei migliori cinema. Immaginifico, onirico, ancestrale. Il film più sperimentale dell'anno. Una favola kaleidoscopica. E' andata così. Una storia improbabile. E' andata così. Grazie a tutti. Grazie a tutti